Grazie a tutti E' arrivato il tempo del raccolto Un raccolto che richiede molta fatica e che ha richiesto molto lavoro I vostri pensieri si accendono con le fiamme di questo fuoco I vostri pensieri ricordano attraverso i vostri antenati Da quelli più vicini, genitori e madri Fino a quelli più lontani, di cui non ricordate più il nome Le fiamme di questo fuoco accendono il ricordo Ricordate, ricordate chi siete e chi eravate Ricordate quanti non ne avete avuto E quanti ancora ne avrete